Acquaroli studia la frenata al covid test rapidi su 800 mila marchigiani Pocolaio a Fermignano è il comune con più contagi dopo Pesaro e Fano Riprogettare la Pesaro che verrà sabato c'è il Future Day Sportital Service strepitosa Vis e Fano K.O. con vista sul derby Grazie a tutti 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 per averci salto un quadro importante della situazione nel mondo del lavoro per quello che riguarda la pandemia. Quindi sono molto contento di quello che la Regione metterà in campo in questi mesi perché va sulla falsariga di quello che noi già stiamo facendo da tanto tempo. Per quella che è stata la vostra esperienza in questo esame approfondito all'interno delle imprese, qual è stata grossomodo la percentuale di dipendenti o personale risultato positivo? Nei test che come associazione abbiamo fatto tramite la nostra società Master Quality, devo dire la verità, meno del 5% di chi è stato testato è risultato asintomatico e positivo al Covid-19. Quindi buoni risultati, vuol dire che il grande senso di responsabilità degli imprenditori nel seguire le misure sanitarie e le misure sanitarie stesse che vengono messe in campo sono a mio avviso adeguate. Nelle mese di novembre il comune di Fermignano risulta essere il terzo della provincia di Pesaro Urbino con più contagi da Covid-19. Ad annotare più casi soltanto i due poli urbani più densamente popolati, ovvero Pesaro e Fano. Cento casi a Fermignano nel solo novembre che hanno portato il sindaco Feduzzi e il vice sindaco Betonica a intervenire ieri in diretta Facebook per invitare i fermignanesi ad autoimporsi una sorta di lockdown uscendo solo per le più strette necessità a casa lavoro. Il primo cittadino ha anche contattato il noto virologo Roberto Burioni, originario proprio di Fermignano, che ha suffragato l'invito ad un giro di vite di restrizioni. Non solo, il sindaco ha sondato con Asur anche la possibilità di effettuare uno screening di massa nella cittadina. Controlli che sono cominciati già oggi nelle fabbriche di Fermignano. Feduzzi ha anche chiesto al prefetto una vigilanza più capillare nel rispetto delle norme anti-Covid. E passiamo ai dati sul coronavirus emersi dal Servizio Sanità della Regione Marche in questo lunedì 30 novembre e come ogni lunedì risulta essere più bassa la quantità di tamponi processati. Sono infatti 1913 i test, di cui 955 quelli in nuove diagnosi. Fra questi si sono rilevati 252 nuovi casi di contagio, 131 dei quali in provincia di Pesaro e Urbino. Un dato sostenuto che secondo le stime del distretto di Pesaro è dovuto ad un accumulo nella rifertazione dei tamponi del laboratorio di Marche Nord. Il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, annuncia per sabato il Future Day, un momento di confronto per organizzare e riprogettare il 2021 del territorio come ci viene spiegato dallo stesso primo cittadino di Pesaro. L'emergenza Covid ci schiaccia quotidianamente sul presente, tra emergenze sociali ed emergenze sanitarie. Ma noi dobbiamo mettere la testa anche nel futuro, perché dobbiamo programmare per prendere tante risorse europee del recovery plan il prossimo anno. Anzi, fatemi dire al Premier Conte che la vera task force della quale ha bisogno è quella con i sindaci, che sono coloro maggiormente in grado di spendere bene e più velocemente. Noi faremo sabato il nostro Pesaro Future Day. Programmeremo il territorio con esponenti di governo nazionale, esponenti del governo regionale e tre ospiti speciali come Ferruccio De Bortoli, Giorgio Gori e Veronica Gentili che presenteranno i loro libri. Tutti i cittadini che vorranno partecipare lo potranno fare nei cinque gruppi di lavoro, abbracciare, respirare, accelerare, sorprendere e connettere. E soprattutto connettere lavoreremo con tutti i sindaci della provincia. E' ora di costruire il futuro per costruire un anno 2021 di rinascita del paese e della nostra città. E passiamo a Vallefoglia perché sabato a Bottega è stato riaperto il nuovo ponte ciclopedonale in legno dopo una serie di interventi strutturali. Un collegamento strategico per un progetto di ciclabili che abbraccia l'intera vallata del Foglia come possiamo vedere ora nelle interviste realizzate da Andrea Sabatini durante l'inaugurazione. Questo ponte ha rivestito un ruolo veramente strategico già quando era stato pensato nel 2004, cioè collegare il comune di Vallefoglia con il comune di Tavoglia. Oggi con il progetto che come Regione Marche stiamo portando avanti, ovviamente questo ponte fa parte di questo itinerario che collegherà da Pesero, praticamente dal ponte vecchio di Pesero arriverà a Casinina. Un progetto dove la Regione Marche ha finanziato con 5 milioni e mezzo di euro. Siamo arrivati già all'approvazione del progetto preliminare in conferenza dei servizi. La Regione ha già fatto il bando per individuare i soggetti che dovranno fare il progetto esecutivo. Io mi auguro che entro qualche settimana verrà definito chi sarà il progettista che dovrà fare l'esecutivo e entro il 2021 dovranno partire i primi lavori. Questo è veramente una giornata importante. Io penso che i cittadini ancora non si sono resi conto che avranno un'infrastruttura della sostenibilità, cioè una vera e propria pista ciclabile che collegherà la città di Pesero con la città con Casinina. Ovviamente l'obiettivo è di individuare ulteriori risorse per proseguire la ciclabile che arriva a Casinina e farla arrivare fino in cima alla volata del foglio. Oggi l'intervento è un intervento importante perché unisce il polo scolastico delle scuole medie di Pian del Brusco, il polo scolastico di Bottega, unisce queste scuole che potranno usufruire del teatro Giovanni Santi che nascerà a Bottega, 330 posti e diciamo dà l'idea che si possono fare tante cose. Qui ci sono quasi 30 chilometri di piste pedronali ciclabili, 20 delle quali su Valle Foglie e il resto su Tavuglia. Tutte le persone si godono questo abitato ancora molto integro, importante e quindi diciamo che adesso insieme alla provincia che ringraziamo, il Presidente Paolini, insieme al Comune di Tavuglia cercheremo di tenerlo in ordine e magari di aggiustare un po' meglio anche le piste pedronali ciclabili. Sarà nostro interesse fare in modo che questa qua diventi veramente non un collegamento ma un'idea di progettualità per un turismo sostenibile, un turismo che possa prevedere anche gente che cammina e può camminare tranquillamente senza rischiare di farlo lungo una strada trafficata d'auto e anche le biciclette. Perché? Perché è un turismo che nel nord Europa sta avendo tanto successo e pian piano sta prendendo piede anche in Italia. Ecco, mi auguro che questo sia il primo di una serie di progetti che possano andare in quella direzione. Noi ci stiamo puntando tanto, anche Tavuglia stessa, stiamo puntando al turismo, un turismo fatto proprio di natura, fatto di libertà, fatto di passeggiate e quindi siamo molto contenti di aver partecipato nella realizzazione della sistemazione di questo ponte che è vero che è Vallefoglia ma è anche vero che è di collegamento a Pian del Bruscolo che è comunque un luogo molto importante sia perché ci sono le scuole medie, sia perché c'è la piscina, sia perché ci sono delle palestre, sia perché facciamo tutti parte dell'Unione Pian del Bruscolo e secondo me è questo che sia da spinta per poter lavorare sempre insieme in maniera così efficace. Ed eccoci arrivati al nostro consueto momento dedicato alle vostre segnalazioni che come sempre vi invitiamo a indicarci al numero whatsapp che potete vedere in sovraimpressione 370-366-7210 un numero a cui potete inviarci foto, video o anche semplicemente informazioni in cui segnalate quello che non va nel nostro territorio. Le foto che vi proponiamo oggi si sono state inviate da un telespettatore della zona tombaccia in cui questo sottopasso pedonale del quartiere versa in stato di incuria da una decina di giorni fra fogliame e rifiuti per i quali si sollecita un intervento di pulizia. Una situazione simile in via Marconi in zona mare a testimoniare come in questo periodo autunnale sono tanti i sottopassi pedonali che attendono simili interventi. Grazie al lavoro di terziario donna di Confcommercio Pesaro Urbino in merito alla sensibilizzazione all'acquisto nei negozi di prossimità il gruppo di imprenditrici provinciali ha ottenuto un bando creativo ideato dal Comune di Pesaro che premierà le migliori idee degli esercizi commerciali del territorio comunale. Proprio al commercio di vicinato, a bar, a gastronomie, a pizzerie e anche a piccoli artigiani il Comune ha infatti deciso di destinare 20.000 euro. Le attività potranno presentare dunque un progetto di marketing e comunicazione in grado di valorizzare il territorio e potranno partecipare associazioni che radunano 5 attività economiche della stessa via o piazza cittadina. I migliori 10 progetti riceveranno il contributo di 2.000 euro per le iniziative che saranno realizzate entro il 31 dicembre. Ha preso il via il viaggio solidale del Natale. Si tratta di una delle iniziative ideate dal Comune di Pesaro che fino al 6 gennaio colorerà le vetrine di otto agenzie di viaggio della città con la fantasia e la creatività di artisti di tutta Italia. Le agenzie infatti offrono i loro spazi in modo gratuito consentendo ai commercianti e agli artisti che solitamente riempivano piazza del popolo per il mercatino natalizio di esporre qui le loro creazioni. E dunque, come potete ascoltare, ci si sta preparando a un Natale diverso e in forma più sobria per le restrizioni dovute alla emergenza sanitaria. Il Comune però ha lanciato un modo differente di esplorare il centro storico cittadino attraverso un trenino dedicato a bambini e famiglie. Si chiama We Pesaro Express ed è il nuovo trenino turistico che accompagnerà pesaresi, visitatori, famiglie e bambine in un Natale diverso. Un Natale a Pesaro in cui le carrozze di un trenino ecologico sono un modo per visitare la città nel rispetto del distanziamento sociale e della igienizzazione tra un turno e l'altro di passeggeri. Il sindaco Matteo Ricci ha partecipato al giro inaugurale. Quest'anno è un Natale particolare, come sapete abbiamo deciso ormai più di un mese fa di annullare tutto ciò che crea assembramento. La pista del ghiaccio, il mercatino, i tanti eventi ai quali eravamo abituati, la grande accensione, l'abbiamo acceso di giorno quest'anno per evitare assembramenti durante l'accensione dell'albero. Però abbiamo pensato che cosa fare comunque e abbiamo deciso di fare queste due iniziative. Uno è il trenino, ringrazio Stefano per aver investito ulteriormente nella nostra città, un trenino a metano e quindi ecologico che permetterà in massima sicurezza ai bambini di fare il giro della città e quindi come dire un'attrazione che dà il senso del Natale anche se non possiamo fare gli eventi. E dall'altra avremo i prossimi giorni il presepe del ghiaccio che è un'altra cosa statica che si può fare con le regole attuali. Complessivamente avremo un Natale che dovrà essere molto intelligente, molto responsabile, nel quale lo stare sparsi dovrà essere la parola d'ordine da seguire sia prima del Natale che durante le feste e anche nel centro storico. Un trenino che servirà soprattutto alle famiglie e ai bambini per fare un giro nel centro storico e andare a scoprire tutti i luoghi della nostra bellissima Pesaro. Il trenino è attivo tutta la settimana, dal mercoledì alla domenica. In pratica la fascia di biglietto sono 3 euro per i bambini e 3 euro anche per gli adulti. Il trenino è una piccola attrazione, ma per i bambini il Comune di Pesaro ha messo in piedi ultimamente e anche diversi mesi fa dei meccanismi di contributo, di sostegno alle famiglie proprio perché pensiamo che i bambini siano una parte principale, la parte fondamentale della nostra città. Quindi pensiamo molto spesso a come poterli aiutare, come poter andare a favore di questa fascia di età. Ed ora lo sport. Nel basket non ha giocato la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro perché il campionato di Serie A era fermo per la pausa dovuta alla nazionale di palla canestro. È stato però un weekend trionfale per quelli che riguarda Ital Service e Megabox Vallefoglia. Meno sorridente invece la domenica del calcio con Vis Pesaro e Fano che hanno perso, come possiamo vedere nel nostro servizio d'approfondimento sportivo del lunedì. Lo sport pesarese torna ad annusare profumo d'Europa e l'Ital Service risponde presente. Fragoroso debutto in Champions League per la società di calcio a 5 che sabato a Podgorizza in Montenegro ha regolato gli avversari di Titograd in un match ma in discussione. 6-0 il punteggio finale per i pesaresi grazie ai gol di Marcellinio, De Oliveira, Borruto, Canal, Fortini e Onorio. Prestazioni buone, secondo me abbiamo dominato tutta la partita dall'inizio alla fine e questo è quello che volevamo fare, non volevamo portare la partita al secondo tempo o magari alla fine della partita per non rischiare. quindi bravi a tutti, bravi a tutti noi, complimenti a tutti perché abbiamo fatto tutto quello che volevamo fare. Siete stati bravi anche nel secondo tempo a partita chiusa, a quel punto, a rimanere calmi e non è così scontato perché loro erano diventati abbastanza aggressivi quindi magari vi potevano tendere una trappola a livello di reazioni, di cartellini eccetera eccetera. Infatti abbiamo fatto pure bene in questo senso perché loro giocavano in casa e è normale che quando giochi in casa perdi di 4 a 0 a fine primo tempo vai a dimostrare un po' così di più. Però diciamo che siamo abituati perché all'anno scorso pure succedeva qualche volta e poi in Champions cambia molto il regolamento, i falli sono più aggressivi gli arbitri lasciano un po' più scorrere la partita però abbiamo fatto bene dal primo minuto alla fine. Molti meno sorrisi nel calcio perché Vispesero e Fano si avvicinano al derby del 6 dicembre gravate da una doppia sconfitta. Schizofrenica quella della Vispesero che in casa della neocapolista Padova ha perso 5 a 3 una partita che ha visto i biancorossi iniziare con uno scioccante 3 a 0 in appena 20 minuti. Capitan Gennari ha accorciato le distanze di testa sul calcio d'angolo sul finire del primo tempo. Di nuovo Padova a ristabilire le distanze con il 4 a 1 di Bifulco a inizio ripresa poi la Vis resuscita con i primi gol stagionali di De Feo. L'attaccante Campano trova una doppietta su Assis di Cannavò e su rigore conquistato dallo stesso Cannavò per il 4 a 3 a 20 minuti dalla fine. La Vis ci crede ma la rimonte sullo sfiorata perché a fine gara arriva il 5 a 3 definitivo di Curcio per il disappunto di mister Daniele Didonato espulso a fine partita. Sul primo gol c'è stato un fallo non evidenziato su Deramo e quello è indirizzato a quei minuti che sono stati un po' particolari lì dobbiamo essere bravi a gestire quelle situazioni. Poi anche sul terzo gol c'era il fallo su Cannavò e per non parlare del quinto gol c'era un altro fallo. Purtroppo quando non si vedono questi falli grandi contro squadre importanti come il Padova si rischia di prendere gol e così è stato. Io penso che la Vispes a prescindere da tutti merita rispetto a prescindere dalla squadra che ha di fronte. Può avere anche la Juve ma in quel momento siamo disputati la stessa categoria e quindi merita assoluto rispetto. Oltre questo c'è stata una grande reazione dei ragazzi che hanno cercato in tutti i modi di raddrizzare una partita nata male ci stavamo riuscendo perché a 9 minuti alla fine sul 4-3 stavamo spingendo tanto e il Padova nel secondo tempo non ricordo che oltre il gol oltre la metà campo non è mai arrivata. Peccato appunto quel nuovo errore arbitrale sul quinto gol che ci ha tagliato le gambe però i ragazzi hanno fatto una prestazione importante e hanno cercato in tutti i modi di raddrizzare una partita nata male. Male è la vis, malissimo l'Alma Juventus-Fano che perde ancora e arriva al derby di Pesero da ultima in classifica dopo il sorpasso dell'Arezzo e dire che il Fano si era illuso col gol di Baldini dopo 8 minuti di gara. Nel secondo tempo la Virtus Verona ribalta il risultato e vince al Mancini 2-1 grazie ai gol di Marcandella e Carlevaris. Una partita da due volte purtroppo per noi nel secondo tempo non ci siamo fatti sorprendere non siamo più ripartiti e su un calcio d'angolo dove sapevamo anche questa situazione abbiamo dormito e poi da lì purtroppo non c'è stata la reazione giusta la squadra ha accusato il colpo fino al gol è una buona partita bisogna lavorare e basta abbassare la testa, lavorare cercare di sbagliare il meno possibile e di essere più concreti questa è la realtà dei fatti Dal calcio alla pallavolo un momento magico per la Megabox Vallefoglia che balza in vetta al campionato di Serie A2 dopo aver battuto le calabresi di Cutrofiano per 3-1 nello scontro diretto al vertice e come detto è stato un weekend senza WL ma quello di oggi è un giorno molto speciale per il basket pesarese oggi 30 novembre infatti compie 60 anni Darren Day uno dei cestisti migliori in assoluto nella storia della Scavolini Basket che l'americano trascinò nei suoi due storici scudetti del 1988 e 1990 anche dalla redazione di Rossini TV i migliori auguri per Day in questo compleanno speciale ed ora vediamo qualche informazione utile per quel che riguarda il nostro palinsesto orario che ha subito dei cambiamenti vi mostriamo quali a cominciare dal nostro telegiornale Rossini News che resta in onda dal lunedì al venerdì con la prima edizione alle 19.40 e alle 20.40 ma non ci sarà più la replica delle 22 bensì alle 23.30 repliche anche il giorno seguente a mezzanotte e mezza alle 6.45 alle 13.15 e alle 14.45 cambia anche qualche orario delle repliche di Buongiorno Rossini la nostra rassegna stampa del mattino che rimane in diretta come sempre alle 7.20 dal lunedì al sabato le repliche però ora saranno alle 8.15 alle 11.20 alle 12.30 alle 14 e alle 18 cambia anche l'orario dei vostri allenamenti di fitness da casa perché FixFit l'allenamento da casa sarà sempre dal lunedì al venerdì ma gli orari cambiano saranno alle 9.30 e alle 17.30 queste erano dunque le variazioni di orario ma ora vi diamo anche l'appuntamento della nostra prima serata che potrete vedere sui nostri schermi alle 21.15 questa sera proponiamo un approfondimento sulla fondazione Onlus noi domani diventiamo grandi quando la speranza nel futuro diventa realtà vi ricordiamo anche una prima serata per quello che riguarda venerdì 4 novembre perché avremo in diretta con Andrea Sabatini il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli che risponde ai cittadini dunque andrà in onda venerdì ma vi diamo già il numero whatsapp 320 1532 912 al quale potete inviare delle domande in anticipo al sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli e vi ricordiamo naturalmente anche il nostro telefono fisso di Rossini TV 0721 26337 si conclude qui questa edizione di Rossini News da tutta la redazione il più cordiale saluto e ringraziamento per averci seguito e ora un buon proseguimento di serata con i programmi di Rossini TV per averci seguito